preghiamo insieme il rosario eucaristico nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen invochiamo insieme lo spirito santo vieni santo spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato donna i tuoi fedeli che solo in te confido nei tuoi santi doni donna virtù e premio donna morte santa donna gioia eterna amen manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra io credo in dio padre onnipotente creatore del cielo e della terra e in gesù cristo suo unico figlio il nostro signore il quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine patì sotto ponzio pilato fu crocifisso morì fu sepolto discese agli inferi il terzo giorno resuscitò da morte salì al cielo siede alla destra di dio padre onnipotente di là verrà giudicare i vivi e i morti credo nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la rimissione dei peccati la resurrezione della carne la vita eterna amen padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen nel primo mistero si contempla come gesù cristo abbia istituito il santissimo sacramento per ricordarci la sua passione e morte padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen sia lodato e ringraziato ogni momento gesù nel santissimo sacramento sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel secondo mistero si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per rimanere con noi tutto il tempo della nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Nel Terzo Mistero si contempla come Gesù nel Santissimo Santo, Gesù nel Santissimo Sacramento. Come noi li rimettiamo come noi 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 rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per farsi cibo e bevanda dell'anima nostra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per visitarci nel momento della nostra morte e per portarci in Paradiso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Signore Pietà Signore Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del Cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei il Dio, abbi pietà di noi Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi Santissime Eucarestia, noi ti adoriamo Doni ineffabile del Padre, noi ti adoriamo Segno dell'amore supremo del Figlio, noi ti adoriamo Prodigio di carità dello Spirito Santo, noi ti adoriamo Frutto benedetto della Vergine Maria, noi ti adoriamo Sacramento del corpo e del sangue di Cristo, noi ti adoriamo Sacramento che perpetua il sacrificio della croce, noi ti adoriamo Sacramento della nuova ed eterna alleanza, noi ti adoriamo Memoriale della morte e resurrezione del Signore, noi ti adoriamo Memoriale della nostra salvezza, noi ti adoriamo Sacrificio di lote e di ringraziamento, noi ti adoriamo Sacrificio di espiazione e di propiziazione, noi ti adoriamo Dimora di Dio con gli uomini, noi ti adoriamo Banchetto di nozze dell'agnello, noi ti adoriamo Pane vivo disceso dal cielo, noi ti adoriamo Manna nascosta piena di dolcezza, noi ti adoriamo Vero agnello pasquale, noi ti adoriamo Corona dei sacerdoti, noi ti adoriamo Tesoro dei fedeli, noi ti adoriamo Viatico della chiesa pellegrina nel mondo, noi ti adoriamo Rimedio della nostra quotidiana fatica, noi ti adoriamo Farmaco di immortalità, noi ti adoriamo Mistero della fede, noi ti adoriamo Sostegno della speranza, noi ti adoriamo Vincolo della carità, noi ti adoriamo Segno di unità e di pace, noi ti adoriamo Sorgente di gioia purissima, noi ti adoriamo Sacramento che germi nei vergini, noi ti adoriamo Sacramento che dà forza e vigore, noi ti adoriamo Pregustazione del banchetto celeste, noi ti adoriamo Pegno della nostra risurrezione, noi ti adoriamo Pegno della gloria futura, noi ti adoriamo Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdona, ciò Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, ciò Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi Hai dato loro il pane disceso dal cielo che porta in sé ogni dolcezza Preghiamo Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue Per sentire sempre in noi i benefici della redenzione Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, Amen Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen Benediciamo il Signore Rendiamo grazie a Dio Grazie a Dio